Siamo al Venetian Con il nostro Carlo, che è l'unico arrivato del team, siamo venuti a visitare il Venetian e adesso, dopo tutto questo, si va in Piazza San Marco Beh, direi che ci siamo Carlo Eccosi qui, siamo arrivati Tanta roba? Ma tu ci sei già stato però Beh, io sono qui per caso, dai Dovamo chiedere alle tue ragazze qua Allora, dimmi La prima volta Prima volta Sensazioni È una figata, cioè sembra vero il cielo Ah, il cielo, guarda, guarda il cielo Sembra che siamo dentro un cielo Lei signorina? Che Sensazioni? Prima volta Las Vegas Mi piace un tacco Piace? Più di New York 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 No, New York e New York Arrivati nella fantastica cornice di Piazza San Marco Guardate che roba Sembra, sembra vero ragazzi È logica Si vede che è una riproduzione, quello che volete Più in piccolo Però per come è stata fatta è veramente fantastica Veramente, veramente fantastica Una roba bellissima Sì, sì Di là addirittura c'è il tramonto Vabbè, sempre emozionante Già io faccio fatica Ad andare in giro con chi ha dieci anni meno di me Prova ad andare in giro con chi ne ha 37 meno di me Ragazzi È brutto 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 Grazie a tutti.